Penso che Pesaro sia una tappa importante per quella che è la mia carriera professionale e dico che dobbiamo tornare a essere un campo canto. Secondo me, da quello che ho capito, ho studiato un po', qui c'è il senso di appartenenza. Sono stato diverse volte in questi mesi di interattiva a Pesaro e ho capito quello che gira un pochettino intorno alla vista. Quindi questa passione, questo trasporto che mi aspetto sicuramente dall'ambiente. È normale che la cosa più importante sono i risultati. La mia idea e il mio obiettivo principale insieme allo staff e ai ragazzi è di creare un'identità forte, creare un'identità in cui l'ambiente si riconosce. Mi viene in mente una squadra aggressiva, una squadra intensa, è una squadra che ha ossessione, energia. Questi valori li dobbiamo riportare poi nella quotidianità. Infatti insieme allo staff non vediamo l'ora di iniziare questa avventura. Ci tengo, per me la forma è sostanza e quindi penso che vincere le partite, se si vuole farlo nel lungo periodo, bisogna pensare di vincere in un certo modo. Grazie. Grazie. Grazie.